Buongiorno, ben trovati con la rassegna stampa di Teleregione, è giovedì 29 giugno e torniamo ad occuparci delle elezioni regionali e dei primi effetti sui partiti. Dopo il voto l'Udc non è entrato in Consiglio regionale dal momento che non è riuscito a raggiungere il quorum e il segretario nazionale Lorenzo Cesa ha deciso di nominare un commissario provinciale a Isernia, si tratta di Fabio Ottaviano, professionista serio e da sempre vicino al partito che sostituirà Mimmo Izzi. Sono certo, ha dichiarato l'onorevole Cese in una nota ufficiale, che il neocommissario Ottaviano saprà coniugare bene la conoscenza del territorio con l'azione politica, siamo tutti operativi e concreti, ora tocca lavorare, rivolgo a lui i miei più sinceri auguri di buon lavoro. C'è un seggio conteso, quello che rivendica Costruire Democrazia, uno dei partiti del centro-sinistra che rivendica appunto un seggio in più, al posto di Roberto Di Pardo dovrebbe entrare a dire di Massimo Romano Antonio Tedeschi, sentiamo. I dati relativi alle elezioni regionali del Molise sono finalmente definitivi e sono stati trasversi al Comune che a sua volta li ha inviati alla Regione per la pubblicazione sul sito ufficiale. Non è cambiato l'esito complessivo del risultato delle urne. Francesco Roberti ha conquistato 94.770 preferenze pari al 62,24%. Roberto Gravina ha recuperato qualcosa e si attesta al 36,32%, pari a 55.308 preferenze. Infine Emilio Izzo con 2.191 voti, pari all'1,44% dei consensi. Ora tocca alla Corte d'Appello completare le operazioni e ufficializzare con la proclamazione degli eletti il risultato del voto. La proclamazione si svolgerà non prima della prossima settimana e sancirà il numero dei seggi da assegnare alla maggioranza di centrodestra e alla minoranza di centrosinistra. Per la squadra guidata da Francesco Roberti, in virtù del premio di maggioranza, sono 13 posti da assegnare in Consiglio regionale. Il tredicesimo seggio spetterebbe a Roberto Di Pardo il secondo degli eletti di noi moderati. Per costruire democrazia, una delle forze della minoranza, il premio di maggioranza non scatterebbe. Al centrosinistra quindi andrebbero otto seggi, non sette e in particolare dovrebbe essere assegnato al politico benafrano Antonio Tedeschi, arrivato secondo nella lista che ha eletto Massimo Romano. E ora ci occupiamo dei trasporti in Abruzzo. Rete Ferroviaria Italiana ha stanziato 500 milioni per due gare per il raddoppio ferroviario di un tratto della Pescara-Roma. Ma ITA ha abolito i voli da Milano ed è polemica. Ce ne parla Valentina Ciarlante. Due gare da quasi 500 milioni di euro sono state bandite da Rete Ferroviaria Italiana per la progettazione esecutiva e la realizzazione del raddoppio delle tratte Interporto d'Abruzzo-Manoppello e Manoppello-Scafa, ovvero due tratti della linea Pescara-Roma. Per quanto riguarda il primo intervento, i lavori consistono nel raddoppio della linea che si estende per circa 5 chilometri in stretto affiancamento col binario attuale. Gli interventi per la tratta da Manoppello-Scafa, invece, riguardano il raddoppio della linea per una lunghezza di circa 8 chilometri, in parte in stretto affiancamento al binario esistente. Verranno inoltre sistemate le stazioni di Manoppello e di Alanno-Scafa. Esultano i parlamentari abruzzesi di Fratelli d'Italia, Etel Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa, oltre al capogruppo in consiglio regionale Massimo Verrecchia. Ma c'è una grana che invece riguarda il trasporto aereo e che agita la maggioranza di centrodestra. Dal 3 agosto, stop ai voli Ita Airways sulla tratta Pescara-Milano-Linate. E non c'è chiarezza sui piani futuri della compagnia per il collegamento tra l'aeroporto milanese e lo scalo abruzzese. Insorge il PD contro la regione. C'è forte preoccupazione per l'abolizione di un collegamento vitale per l'economia dell'Abruzzo. La regione si opponga e si faccia sentire immediatamente le parole di Daniele Marinelli, del PD, mentre Claudio Mastrangelo, segretario dei Giovani Democratici, sottolinea i disagi cui andranno incontro i giovani universitari e i lavoratori nel rientro dalle ferie. Ed ora vediamo insieme i titoli dei principali quotidiani. Oggi in Edicola iniziamo come al solito con primo piano Molise, apertura dedicata alle elezioni regionali. Roberti vince pure nel feudo di Gravina, l'esito dello scrutinio delle sezioni che mancavano all'appello. A Capobasso il centrodestra sorpassa la coalizione progressista. Il PD si conferma a seconda forza, dopo Fratelli d'Italia, le preferenze definitive dei candidati. E poi anche primo piano Molise si occupa di quello che definisce un caso. 12 e non 13 seggio a chi vince i dubbi di costruire democrazia. E ancora la resa dei conti nell'Udc cesa a fide il partito ad Ottaviano. La decisione, scrive primo piano, pare sia scaturita dopo il tradimento politico di Mimmo Izzi. E poi la foto al centro della pagina è dedicata all'emergenza al Santimoteo, l'ospedale di Termoli. Mancano medici, lunedì si ferma, emodinamica. Il primario all'Asrem, servizio sospeso dal 3 luglio e fino a nuova comunicazione. Brutta gatta da pelare per il neo eletto presidente. E ancora da Campobasso post regionali con lo sguardo alle comunali, ipotesi e scenari. E poi c'è la cronaca, rissa corpus domini d'aspo del questore per due trentenni e sei giorni di chiusura al bar di Campobasso. E poi ai Serni, a ladro seriale, non rispetta il divieto di dimora, il GIP lo spedisce in Cella. È dedicato al post voto il punto di oggi che porta la firma del direttore Luca Colella, consiglio, il matese felpieno, venafro, K.O. Invece in taglio basso, una notizia da Isernia, la testa di Augusto, rinvenuta in città, esposta al Museo dei Fori Imperiali, a dicembre tornerà a Santa Maria delle Monache. I titoli sotto la testata, dedicati allo sport, Campobasso, anticipazione confermate, il difensore Cristian Gioio resta in rosso-blu. Fra l'altro ieri sera la società ha comunicato l'interruzione del rapporto con l'avvocato Maselli. Poi da Isernia, la società orientata a sostituire Mr. De Bellis, mi dispiacerebbe molto, pallavolo, piccinini al taglio del nastro, della rinnovata palestra di Villa De Capua. Da primo piano Molise vediamo i quotidiani abruzzesi, iniziamo come al solito con il centro, campus universitario via ai lavori. Questa l'apertura, pescara, ciclabile, aree pedonali e verde, ecco il progetto per Porta Nuova. La foto al centro della pagina è dedicata ai rincari dell'estate, ecco quanto costa fare la spesa. I dati Istat dicono che crescono i prezzi di cibo, vacanze e voli. E poi scatta l'arresto del guardaspalle svolta sul caso dello chef. Rapito, si parla dell'abruzzese, sparito in Ecuador e delle indagini internazionali. E ancora con la cronaca, Teramo rivolta in carcere, sedata dopo 5 ore, attenzione a Castronio. Schianto con lo scooter, grave, 19enne, pescara, incidente sulla riviera Nord, l'urto con un mezzo della società ambiente. E poi di spalla c'è l'intervista alla scrittrice Susanna Tamaro. Amo passeggiare sulle montagne abruzzesi. E ancora una via per Berlusconi, è polemica, opposizione assentesi del centrodestra e scoppia la protesta. Si parla del voto lampo nel Consiglio Comunale di Pescara. E poi, sempre da Pescara, premi Flaiano, salva la serata, ma la pace è ancora lontana. Calciomercato, Pescara, fatta per squizzato, il Venezia vuole. Mesic, i titoli sotto la testata, emergenza alluvione, l'Abruzzo ricambia, 2 milioni alla Romagna. Anche la regione Emilia aiutò l'Aquila. E poi si parla dell'aeroporto d'Abruzzo, stop al volo da Pescara a Milano, è polemica. E poi treni, Ferrovia, Roma-Pescara, ecco il bando da 500 milioni per il raddoppio della linea. Dal centro al messaggero, Abruzzo, chef rapito, ore di angoscia. Ecuador ha arrestato un uomo del comando che ha sequestrato Panfilo Colonico. Poi la notizia shock, trovato un cadavere smembrato, timori per la sorte del cuoco. E ancora l'Aquila, convitto, studente morto, un milione ai familiari. Si parla del crollo del convitto. Per le scosse di terremoto, il Tribunale Civile dell'Aquila ha condannato Ministero dell'Istruzione, il convitto, provincia dell'Aquila, l'ex presidente del convitto e un dirigente della stessa provincia. Ancora manager fermato a Mosca, mai scappato dalla Russia. Si parla del Sulmonese Giovanni Di Massa, su di me, tante bugie. E ancora da Pescara, assalto alla casa bunker, trovati due chili di droga. Si parla anche dei trasporti sulla prima pagina del messaggero Abruzzo, raddoppio della ferrovia, appalto da 478 milioni. La ferrovia Roma-Pescara sarà potenziata via agli appalti. E ancora per la cronaca da Montesilvano, manore in acqua, 17enne, salvata dal bagnino. Di spalla Confindustria, l'Abruzzo cresce di più del resto d'Italia. C'è un focus sull'economia. Mentre i titoli sotto la testata, si parla dello show Temptation Island, con Laura e Andrea che sbarcano su Temptation Island. Il programma delle reti Mediaset Pescara, il premio Flaiano, il teatro sarà pronto per la serata clou. E poi per il calcio di Serie C, Pescara, l'Estonet Tunoyiv, dice sì, chiusura anche per squizzato. Dai quotidiani regionali, vediamo insieme ora i quotidiani nazionali, che oggi in prima pagina dedicano ampio spazio alle vicende della politica interna. Meloni attacca su MES e BCE, scrive il Corriere della Sera, ordine del giorno con il sì del governo contro Visibilia, scoppia il caso Santanchè. La premier, la misura non è nell'interesse nazionale, critiche sul rialzo dei tassi, Schlein mette in imbarazzo l'Italia. E poi c'è il sondaggio, voti da Forza Italia a Fratelli d'Italia per il 30% degli italiani. E poi Berlusconi, il testamento, l'idea del patto per il riassetto di Fininvest. Al centro della pagina, gli scontri in Francia, poliziotto, gli spara la testa, giovane muore, rivolta a Parigi. Macron, ingiustificabile, imbappesto, male per la Francia. E infine Roma, ragazza uccisa, sospetti su un coetaneo. Dal Corriere della Sera a Repubblica, Meloni, processa, l'Unione Europea. Scintilla in Parlamento, la premier contesta il rialzo dei tassi, la cura della banca centrale, peggiore dell'inflazione, i nostri interessi sono altri. Oggi, nel vertice di Bruxelles, dovrà affrontare l'irritazione dei partner che valutano di escluderci dal MES, la missione europeista di Panetta nell'Italia, che attacca la BCE. E poi di spalla, si parla del conflitto in Ucraina, le due gemelle di 14 anni, uccise dal missile mentre cenavano. La foto al centro della pagina è dedicata alla 17enne trovata morta, ieri pomeriggio in un cassonetto, Michelle trucidata e lasciata in un carrello. Michelle Maria Caruso, 17 anni, uccisa a Roma nel quartiere di Prima Valle ed è stato fermato il fidanzato. Dalla Repubblica al messaggero, l'inflazione rallenta la corsa, meloni, tassi troppo alti. Il premier la cura a BCE più dannosa della malattia, altro stop al MES, a giugno l'indice dei prezzi giù al 6,4%, ma la garde Fed ancora rialzi. E poi dalla Francia scontri per il minore colpito a morte dalla polizia Eliseo contro gli agenti. Il messaggero dedica il taglio medio della prima pagina a Roma shock. Ragazzino uccise, cadavere in un carrello. La 17enne è stata accoltellata, in serata ha fermato un coetaneo. E poi la foto è dedicata alle due gemelle UC, serazzo russo sulle gemelle, la tragedia di Anna e Giulia. Dal messaggero all'altro quotidiano romano, il tempo, meloni, sfida, l'Europa. Vertice a Bruxelles, il premier al Consiglio UE difenderà la linea del governo, prima l'interesse nazionale, no alla ratifica del MES, stop al rialzo dei tassi e aiuti veri sui migranti. Bacchetta Gentiloni sulla PNRR, lo ha letto, per primo poteva vigilare in passato. E poi il presidente Lula si lamenta del cibo deluso da Quirinale ed Eliseo. E ancora per i trasporti, per i romani, sono insufficienti. Cinque in pagella dai cittadini convinti che non miglioreranno. E ancora sul tempo, 16 anni accoltellate e buttata tra i rifiuti, cadavere rinvenuto a Prima Valle, in un carrello della spesa tra i cassonetti, fermato un coetaneo. Ferrovie dello Stato nei prossimi dieci anni, investimenti per 200 miliardi. Dal tempo al fatto quotidiano. Tutti bombardano la pace, ma il Papa non si arrende. L'apertura è dedicata alla doppia missione, Zuppi a Mosca e le lemosiniere porta viveri agli ucraini. Meloni, antipacifisti, ignora il piano del capo dei Vescovi, apprezzato da Mosca, ma non da Kiev. E poi strage a Kramatorsk, missile russo, buca la difesa ucraina e colpisce un ristorante. Infine, De Masi, offeso dalla Premier, Vigliacco è chi invia armi e massacra per procura. E poi il fatto quotidiano parla di Salvini a licenza d'insulto a Carola. Il Senato l'ha salvata. E ancora, le schiforme Calderoli, scrive il fatto quotidiano, Regioni, scambio di casta fra province e terzo mandato. Dal fatto quotidiano vediamo il titolo del manifesto Caduta Tassi. Questa l'apertura. La cura rischia di essere più dannosa della malattia. In Parlamento, prima del Consiglio europeo, Giorgio Meloni attacca la Presidente della BC e per i ritardi del PNRR se la prende con Draghi e Gentiloni. Sul Messe rinvia alla trattativa con l'Unione europea. Il giallo della Lega segnala che la strada è tutta in salita. E poi il manifesto riporta la notizia di mondo convenienza un mese di sciopero la lotta. Continua inizia. Da domani, dal manifesto, vediamo ora la prima pagina della verità che titola in apertura L'ultimo scherzo di Draghi alla Meloni. La pesante eredità dei migliori. Il contenzioso sui prelievi relativi agli extraprofitti realizzati dalle aziende dell'energia finisce davanti alla Corte Costituzionale e se il ricorso fosse accolto si aprirebbe un altro buco miliardario nei conti dello Stato. La verità è che la norma è stata scritta male. E poi al centro della pagina i PM stringono il cerchio, crollo a causa dei mancati investimenti dei Benetton, ha una svolta l'inchiesta romana sul Morandi, intanto il garante sanziona la famiglia Veneta, violata la privacy dei loro clienti. Dalla verità al quotidiano economico, il sole 24 ore. Sanatori fiscali, il grande flop titola questa mattina, il sole 24 ore. Dalle definizioni agevolate, persi 33,6 miliardi dei 53,8 di gettito atteso. I magistrati, meccanismi da abbandonare, serve più lotta all'evasione diffusa. E poi si parla del PNRR, solo a settembre l'incasso terza rata. E ancora la foto al centro della pagina è dedicata all'attesa per i taxi. A Roma tre taxi per 70 persone centrali in K.O. a Milano. Dal sole 24 ore, concludiamo la nostra rassegna stampa con la gazzetta dello Sport, che in apertura parla di Zagnolo, l'attaccante svele il suo sogno, Juve ci sono. Ho sempre tifato i bianconeri, dovrei giocare con loro, mi farebbe piacere anche senza la Champions. E il titolo invece sotto la testata è dedicato all'eliminazione degli azzurrini, figuraccia azzurra. Italia già a casa, eliminata da tutto, si parla dell'Under 21, una nazionale distratta, tonali delude, la Norvegia vince 1-0, ci butta fuori da Europeo e Olimpiade. Con la gazzetta dello Sport si conclude la nostra rassegna stampa. Prima dei saluti vediamo il palinsesto di oggi. Alle 11, Venafro, riprendiamoci la storia, alle 13.30, Slow Tour, Campobasso, con la puntata dedicata alla sfilata dei misteri 2023, alle 14, l'informazione, alle 16 lo Slow Tour con la puntata dedicata a Castelpetroso e al Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Cuochi. Alle 18 torna il teatro con la Dodda de Crestenella, alle 19.30 ancora la nostra informazione, alle 21 l'appuntamento con la trasmissione sportiva Zona Sport e alle 23 il TG News. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci, buona giornata. Grazie per la visione! Grazie per la visione!